Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo episodio sulla serie da 700 a 2400 sui chess livello maestro. Oggi cercherò di raggiungere i 2350. Siamo sempre più vicini alla meta, iniziamo con la prima partita e vediamo come va. Ok, un 2260, proviamo la difesa siciliana, qui, dragone iperaccelerato, lui ha mangiato di donna, allora cavallo f6, su e5 cavallo c6, vediamo lui chi è, insomma niente male, ha 2330 nel rapid, se non mi sbaglio. Intanto vediamo un attimo questa variante, è una variante abbastanza pericolosa quando lui fa uscire subito la donna al centro, che però mette in pericolo il nero se non la conosce. Ok, per esempio qui donna h4, cosa faccio? Proviamo alfiere g7, lui sta difendendo e5, qui mi viene in mente h6 per poi giocare g5, quindi facciamola, minaccio la forchetta a donna e alfiere, ovviamente lui sposterà l'alfiere, immagino. Ok, ha giocato alfiere g3, quindi non so quanto senso abbia giocare g5, non so se provarla oppure no, ma io direi di sì. Giochiamo g5, attacco la donna e forse qui alfiere f5, alfiere g6, mi viene in mente. Quindi proviamo alfiere f5, poi posso mettere l'alfiere in g6 guadagnando un tempo sulla donna. È molto importante cercare di sviluppare i propri pezzi cercando di attaccare i prezzi dell'avversario, quindi sfruttando debolezze. In questo caso la sua donna è molto esposta, quindi forse posso sviluppare i pezzi cercando di attaccarla. Qui lui ha giocato alfiere d3, quindi per forza ho dovuto cambiare. Vediamo un attimo cosa fare qua, perché comunque arroccare corto sembrerebbe pericoloso, quindi giochiamo prima il 6 e poi forse arrocco corto. Vedete ha giocato cavallo b5 per giocare cavallo d6, mi darebbe scacco, quindi qui mi sa che sono praticamente obbligato ad arroccare. Lui ha giocato comunque cavallo d6, questo però è piuttosto strano perché forse posso prendere in e5. Sto pensando a cavallo per e5, se no facciamo direttamente f6 oppure donna e7. Vai donna e7, ero indeciso, avevo diverse possibilità qui effettivamente. Ora però minaccio seriamente di giocare f6 oppure f5 e poi cercare di attaccare il cavallo. Quindi giochiamo f5 per giocare f4. Qui su Empal Sun pensavo di catturare di donna. Per forza devo catturare di donna perché se avessi catturato di alfiere avrei lasciato il pedone h6 in presa. Ok qui catturo l'alfiere, benissimo, lui qui dovrebbe prendere di pedone e devo trovare una collocazione alla donna, forse donna f4. Donna f4 sto minacciando g4, quindi attacco il cavallo e poi la casa f2 dato che lui ancora non ha arroccato, quindi sta rischiando grosso in f2. Quindi vedete lui ha portato la donna fuori fin dall'apertura e è rimasto un po' indietro con lo sviluppo e consideriamo che lui ha i pezzi bianchi. Qui non so se fare g4 e poi catturare in e5. Proviamo perché no. Mando via il difensore di e5 che è il cavallo, lui dovrà spostarlo da qualche parte e a quel punto catturo in e5 attaccando il cavallo e minacciando il cambio di donne. Però intanto vediamo dove metterà il suo cavallo. Ok. Ha giocato cavallo h4. Non so, quasi quasi prendo di alfiere ma non so se poi c'è donna g6, è troppo pericolosa perché mi mangia in e6 poi. Quindi catturiamo di donna dai. Meglio di donna così siamo sicuri. Abbiamo un pedone in più qui perché lui ha anche il pezzo in presa. Ah addirittura mi ha lasciato la donna in presa. Incredibile. Ai 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 ai. Dopo 23 mosse quella donna è stata persa. Me la voleva dare fin dall'inizio altrimenti non avrebbe giocato subito donna per d4. No scherzo. Attenzione. 2507. Qui è dura ragazzi. Mi devo impegnare. Proviamo l'attacco Grand Prix di fiesa siciliana. Lui d6. Proviamo f4. Poi cavallo f3. E alfiere b5. Ha giocato il sistema con d6. Questo mi piace questo sistema. Proviamo alfiere b5. Ovviamente alfiere d7. Non ha giocato cavallo c6 per farsi doppiare i pedoni. Quindi questo è bravo. Infatti il punteggio la dice tutta. 2507. Non è poco. Ok cavallo f6. Qui sto pensando se fare d3 oppure arroccare ma penso che la differenza sia minima. Proviamo ad arroccare. Ok. Ora d3. Lui ha giocato cavallo f6. È molto particolare qui come mossa. Proviamo a giocare a4 per dare una casa all'alfiere in a2. Quindi in caso di cavallo a5 posso giocare alfiere a2. Lui ha fatto alfiere g4. Ok. Qui giochiamo subito h3. Catturo di donna. Vediamo se prende intanto. Dovrebbe prendere altrimenti avrebbe perso un tempo. Ok. Avevo perso per un attimo la connessione. Meno male l'ho recuperata. lui ha giocato cavallo d4. Mi attacca c2. Quindi va attaccato questo cavallo in qualche modo. Proviamo a giocare alfiere 3. Mi viene in mente alfiere 3 per attaccare il cavallo. Se no posso anche giocare a5 perché lui sta preparando b5 in questo momento. O addirittura f5 potrebbe essere una possibilità. Qui ho un sacco di mosse disponibili. Però alfiere 3 mi sembra quella più diretta. Vado ad attaccare il cavallo perché tanto su b5 dovrei comunque rimanere con un pedone in più dopo il cambio delle torri. Qui posizionalmente non sto messo per niente male. Quindi vediamo un attimo. Lui ha giocato torre b8. Mi sta comunque dando il pedone. Io quasi quasi lo prendo. È vero che gli do l'alfiere camposcuro e poi probabilmente avrò la donna esposta in d4. Però a primo impatto non vedo pericoli. Quindi quali sarebbero i rischi? Non lo so. Lui ha giocato cavallo g4. Questa me l'aspettavo. Cavallo g4 è una buona mossa. Sto pensando di fare e5. Non so se funziona. E5 se lui dovesse catturare catturo la donna. Quindi e5 è una ottima mossa qui penso. Proviamo a farla perché lui ha comunque il cavallo in g4 in presa. Sono pronto a mangiare. Deve fare per forza cavallo h6. Tra l'altro cavallo h6 minaccia cavallo f5. Quindi proviamo a giocare donna e4. Esatto. Ho fatto lo stesso cavallo f5. Qui non so se supportare e5 con d4. oppure cos'altro potrei fare? G4 per mandare via il cavallo? Perché lui comunque sta minacciando cavallo g3. No, neanche g4 non va bene. Perché mi becco la forchetta. Peccato. Allora devo spostare o la donna o la torre oppure giocare cavallo e2. La situazione si sta facendo complicata. Ho un pedone in più ma ho il re abbastanza esposto. Proviamo a giocare il re h2. Così difendo la casa g3. Intanto mi sono tolto il re dalla diagonale g1 a7. Ok, lui qui che ha fatto? Ha fatto e6. Ovviamente su donna b6 avrei giocato alfere b3. Invece lui ha fatto e6. Giochiamo comunque alfere b3 perché lui sta minacciando d5. Magari la fa lo stesso. Però se dovesse giocare d5 si indebolisce il suo alfere campo oscuro. Io sono pronto a giocare g4 per mandare via il cavallo. E qui non dovrei più avere grossi problemi. Ok, lui ha fatto comunque d5. Allora dobbiamo trovare una sistemazione alla donna. dove la metto? Proviamo in e1 perché lui minaccia comunque il cavallo d4. Tra l'altro la può fare lo stesso cavallo d4. Non posso muovere l'alfiere. Peccato. Ai ai ai. La situazione si mette male perché mi può doppiare i pedoni volendo. Invece no. Ha giocato b5. è stranissimo. Molto strano ragazzi. Allora qui dobbiamo parare la casa d4. Quindi cavallo e2. Perfetto. Così controlliamo d4. Lui non potrà mai più fare cavallo d4. E ora preparo seriamente g4. Non sto male perché questo alfiere in b3 comunque ha un ruolo molto importante come difensore. Quindi qui proviamo g4. H per g4. A. Cavallo e3. Bella mossa questa. Proviamo torre g1. Lui che ha fatto ha fatto f6. Ma qui forse c'è cavallo d4 o sbaglio? Sto pensando a cavallo d4. Gli rimane il cavallo in presa in più c'è il pedone in e6 in presa. Vediamo un attimo perché qui secondo me sto meglio. Vediamo cosa si inventa lui. Ah addirittura ha mangiato di pedone e mi attacca il cavallo. Ma se io gioco cavallo per e6 è troppo pericolosa? Qui sono indeciso. Mi serverebbe un po' di tempo per pensare effettivamente. Perché non è semplice. Proviamo a prendere il cavallo. Casomai se lui dovesse prendere in d4 avrei donna e6 scacco. E poi comunque posso entrare in a7 con la torre e in h1 con l'altra torre. Penso di stare meglio qui. Ah però donna h4 me la sono persa. Peccato. Peccato. Eh ora lui inizia a dare tutta una serie di scacchi. Sarà un bel problema ora uscirne da questa posizione. C'è donna per g4? No peccato. Dovevo fare cavallo per e6 non donna per e3. Mi sa. Quindi penso di aver sbagliato qui. Qui torniamo in h1. Se lui vuole la patta a me va bene. Ma non lo so eh. Forse continuerà a giocarla. Immagino ha praticamente 170 punti più di me. Quindi vediamo un attimo. Per ora sta dando scacco. Eccoci. Vai. Ha messo la torre in gioco ragazzi. Ora è dura qua eh. Qua è un bel casino. Tra l'altro c'ho il cavallo in presa. Proviamo a giocare cavallo e2 per giocare cavallo g3. Tra l'altro ora attacco la torre. Ma lui potrebbe dare scacco in g4. Poi gioco cavallo g3. Esatto. Ha dato lo scacco. Cavallo g3. Forse lui però ha e4 per giocare alfiere e5. La situazione qui la vedo disperata. Devo assolutamente fare torre h1 per mandare via la donna. Speriamo che me lo permetta. Se no poteva fare 5. Ma no. Non l'ha fatta. 5. Ha messo la torre in gioco. Ok. Benissimo. Vediamo un attimo. Dove mette la donna. Donna f6. Allora torre f1. Mi viene in mente. Proviamo a fare torre f1 per attaccare la donna. Eh. Torre f4. Ai 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 ai. Qui sono in difficoltà. 51 secondi. Il tempo inizia a scarseggiare. Cosa posso fare qua? È difficile. E' difficile. Quasi quasi gioco d4. Non chiedetemi perché l'ho fatta ma è così. Voglio cambiare la donna con la torre. Se lui dovesse catturare di pedone. Eh. Invece ora mi sta attaccando a raggi x la mia donna. Qui. Quasi quasi difendo d4. Se dovesse catturare. No. Devo stare attento. Ah. Ha trovato lo scacco. Vabbè. Devo dare la donna per le due torri. Dai. Non c'è tempo da perdere qui. Qui catturo. Il problema è che gli ho attivato il suo alfiere. Ho ancora più uno come materiale ma la vedo durissima. Probabilmente al gioco corretto questa sarebbe patta. Non di più. Proviamo alfiere c2. Non ho più tempo. Non ho più tempo. Quindi devo giocare velocemente senza stare tanto a pensare. Quindi mosse veloci e pericolose. Possibilmente. Proviamo alfiere c1 per difendere la torre. Per giocare alfiere f3. Così mi difendo a sufficienza. Purtroppo qui mi cade b2. Ma non ha importanza. Ah. Tra l'altro qui sta minacciando di entrare in g1. Ai 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 ai. Devo dare la torre. È incredibile. Ancora qui ho compenso. Ma mi sono spariti i pedoni. 12 secondi. No 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 no. Ragazzi. Devo andare veloce. Perché la situazione si sta facendo critica. Attacchiamo il pedone da dietro. Proviamo a sacrificare. Ok. Qui giochiamo in pre-move. Peccato. Perché stavo messo meglio. Quando l'ho fatto entrare con la donna in h4. Lì non ci ho capito più niente. Attenzione. 4. Dai. Devo giocare in pre-move. 2 secondi. Punto 7. Ah. Ok. Cavallo h3. Un secondo. Mi sa che la perdo. Penso questa sia persa. Anche se lui non sta giocando velocemente. Attenzione. Attenzione. Non ci posso credere ragazzi. Non ci posso credere. E questa la portiamo a casa. E questa la portiamo a casa. Più 9. Mi ha dato più 9. Ok. L'ho rubata però. Andava fatto. Perché comunque avendo poco tempo. Non si sta più a pensare al tempo. Ma si cerca di vincere anche per il tempo. E' una componente del gioco. Intanto vediamo qui. Prossima partita. Caro Khan. Contro un 2286. E intanto sto già a 2346. Ottima vittoria contro un 2500. Qui lui ha giocato cavallo d7. Proviamo a giocare direttamente d4. Ok. Lui f6. Su f6 cosa gioco? Forse cavallo g3. No. Catturiamo prima in f6. E poi dopo. Cavallo g3. Che lui ha giocato e6. Però si è indebolito l'alfiere campo chiaro. Qui prendo con il pedone h. Non dovrei avere problemi in questa posizione. Secondo me sto bene. Proviamo alfiere g5. Minaccio anche h7. Tra l'altro. Proviamo donna e2. Arrocco lungo. No. Che lui ha fatto h6. Però c'è alfiere g6. Scacco. No. Non può più arroccare praticamente. No dai. Qui sto messo benissimo. Quasi quasi arrocco. Tanto lui non può fare h per alfiere. Pedone per alfiere non la può fare perché. Aveva la torre impresa in h8. Ora devo spostare l'alfiere. Lo manteniamo qui. In h4 per attaccare la donna a reggi x. Ok. Lui ha giocato bene. Qui donna a5. Mi attacca a2. Però difendo tranquillamente. Ora lui ha fatto b5. Proviamo cavallo e5. Ora cerchiamo un po' di attività. Mi offre il cambio. Ma si dai. Quasi quasi cambio. E poi cavallo g6. Facciamo cavallo per c6. Guadagniamo un pedone. Perché un pedone è sempre un pedone. Tanto poi posso ritornare in e5. Io penso qui di stare meglio. Però no. Attenzione. Ho regalato un pezzo eh. Ai ai ai. Ho regalato l'alfiere in h4. E lui giustamente l'ha preso. Però dai. Pezzo per due pedoni. Penso ancora di resistere. Tra l'altro qui c'è cavallo g6. Quindi lui ha sbagliato subito. E penso di averla recuperata. Posizionalmente non sto mezzo male qua. Ho una torre attiva. Ho la donna attiva. L'altra torre in d1. Devo cercare di trovarle una collocazione migliore. Però prima di tutto spostiamo la donna in e3 per attaccare e6. E anche per difendere d4. Ora invece minaccio veramente torre e1. Si dai torre e1 e poi dopo spingo. Dopo spingo per cercare di giocare f4 e f5 per attaccare il pedone in e6. Questa è l'idea. Lui sta difendendo e6 con la donna ora. Ok benissimo. Ora giochiamo f4 e f5 il piano. Se lui dovesse fare un passant catturo di pedone. Perfetto. Ora come fa a fermare il piano f4 e f5 lui? La vedo dura. Se no posso fare anche g4 e g5. Così deve rimuovere il cavallo. Forse ancora meglio. Si dai g4. Mi fa entrare in e6. Quindi l'unica debolezza che aveva. L'ho presa proprio di mira e ci ho puntato tutti i pezzi che ho addosso. E ora qui penso di stare meglio. Sto minacciando g5. Cos'altro può fare lui? Zero proprio. Niente. G5. Ok ha spostato il cavallo. Ricatturiamo di torre. Poi torre e7 scacco. E lui ha il re veramente troppo esposto. Tra l'altro qui posso già guadagnare il cavallo in h5. Prendiamolo. E ha abbandonato. Ok. Partita interessante pure questa. Niente male direi. Dai. Sto a 2351 ragazzi. Quindi sono già arrivato a 2350. Cerchiamo possibilmente di salire ancora un po' se possibile. Lui 2285. Vediamo difesa siciliana. Di nuovo la stessa variante di prima con donna per d4. Questa non l'ho mai vista. Donna c4. Interessante. Sto pensando a cavallo per e5 e donna a5. Mi sa che non funziona perché c'è donna e2. Lui ha sviluppato il cavallo. Stava minacciando probabilmente il cavallo b5. Però io gioco alfiere e6. Attacco la donna e poi arrocco lungo. Mi viene in mente quest'idea. Quindi invece di fare alfiere g7 arrocco. Guadagno un tempo sulla donna e poi arrocco lungo. Anche se non so quanto sia sicuro il re poi in c8. Ha giocato donna a5. Certo c'è la donna vicina. Non so se arroccare ma quasi quasi. Perché lui comunque sta minacciando il cavallo b5. Il cavallo b5 è molto pericolosa come mossa. Certo lui ha giocato una mossa strana in apertura donna c4. Mi ha un po' messo in difficoltà. Non so se addirittura giocare donna b4 per cambiare le donne qua. Ma no dai arrocchiamo. Vediamo lui che fa. Giustamente sviluppa un pezzo guadagnando un tempo. Allora qui donna b4 ora. Per forza. Cerchiamo di cambiare le donne. Non è forzato a farlo. Però comunque attacco l'alfiere in f4 io. Ok ha catturato. Allora catturiamo. Attacco c2. Lui non può arroccare tra l'altro. Ha giocato alfiere d3. Che strano. Mi sta dando un pedone. Ah questa è una bella mossa. Questa mi ha sfuggita. Non dovevo prendere il pedone probabilmente però. Riccora sta per arrivare torre c1. Lui mi sta attaccando con cavallo alfiere torre. Questo può essere un problema. Quindi se gioco a6 probabilmente torre c1 immagino. Esatto. Ai ai ai. Sto messo male qua. Proviamo il re d8. Perché comunque mi è rimasto l'alfiere in f8 e la torre in h8. Non giocano. Quindi con lo sviluppo è avanti lui. Lui ha giocato cavallo d4. Poteva anche fare cavallo e5. Invece ha giocato cavallo d4. Mi attacca l'alfiere in e6. Però mi sa che non posso perdere tutti questi tempi. Tra l'altro la mia torre in d3 è quasi persa. Mi viene in mente cavallo d5 in questa posizione. Guadagno un tempo sull'alfiere. Quindi proviamola. L'alfiere dove va? Ah no. Ha catturato in e6 così. Ora e6 effettivamente è un pedone debole. Lui deve muovere l'alfiere per forza. Forse fa alfiere e5. Sì. Quindi forse io devo fare cavallo f6. O cosa gioco qua? Alfiere h6 potrebbe essere un'altra idea. Per attaccare la torre. Doppia scelta. Cavallo f6 o alfiere h6? Proviamo cavallo f6. Anche se forse è un po' più passiva cavallo f6. Lui minaccia comunque cavallo g5. Non sto messo bene posizionalmente. Lui minaccia comunque torre per c7. Minaccia il pedone in e6. Mi viene in mente alfiere h6. Ma non ne sono così convinto. Proviamo. No non funziona perché c'è cavallo f7. Eh c'è cavallo f7. No vabbè. Mi sono fatto dare un triplo assurdo qua. Ero troppo concentrato su e6. Vabbè. No no no. Questa ha proprio giocata malissimo. Peccato. Errore gravissimo questo. Che ho fatto qui. Tra l'altro lui può giocare torre c8. Ora guadagna la torre. Proviamo a resistere un po'. Ma io penso che qui dovrei abbandonare praticamente. Vediamo lui che fa. Cioè pezzo per pedone. Il compenso non è molto. Però insomma lui è lentissimo. Qui proviamo a giocare torre d8. Ok ha messo l'altra torre in gioco. Giochiamo cavallo d5. Cioè qui se riesco a giocare in maniera veloce. Forse potrei farcela per il tempo. So che oggi veramente sono molto cattivo. Perché sto cercando di rubare tutte le partite possibili. Però ragazzi mi dispiacerebbe scendere sotto i 2350. Questo episodio voglio finirlo sopra i 2350. Ok. Lui ha giocato al fiere c3. Però non è male. Proviamo a giocare b5. Non ho il compenso. Proviamo qui a giocare e5. Non me l'ha permesso. Ci ha rimesso l'alfiere. Ha fatto bene. Tra l'altro ora mi entrerà di torre. Per esempio torre c1. Una cosa del genere. No ma non è semplice. Cioè giocare con un pezzo in meno. Ci proviamo ma c'ha un minuto e 20 secondi ancora. Ok. Ha diciamo messo il re al centro. Quindi la situazione si sta facendo sempre più disperata. B4 non è male. Catturiamo. Proviamo torre a7 per giocare torre a2. Forse riesco a guadagnare qualche pedone. Non lo so. Che ha fatto al fiere d6. Ragazzi intanto lui sta sotto al minuto. Eh qui però ha difeso. Non regala niente. Non regala niente. Qui non so bene cosa fare. Se giocare torre f2. Per attaccare il pedone. Però basta che lui giochi comunque una mossa come re3. No. Invece ha giocato torre c3. Forse ancora meglio. Giochiamo torre e2. Praticamente sono quasi obbligato a cambiare. Mi devo dare un pedone. Peccato. E ora mi sa che non ce la farò mai. Perché ha 43 secondi. Non sono pochi. Penso che lui ce la faccia comunque. No. Non va bene. Non va bene. 35. Ma ora lui va a promozione. Però mi sembra un po' lento. Però a dirvi la verità anch'io sono lento qui in questo episodio. Sto giocando lentissimo. Ho sempre meno tempo degli avversari. Ma guarda un po'. Non va a dare scacco. 13. No ma ci riesce penso. Ce la fa? Cioè guardate com'è lento. Qui 14. Attenzione. 13. 10. A 10 secondi eh. 8. Oh 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 oh. È lentissimo. È lentissimo. Cioè dovevo giocare più velocemente. Fin dall'inizio. Cioè non è riuscito a darvi il matto. Ragazzi patta. Patta. Abbiamo salvato l'insalvabile oggi. Contro il 2500 abbiamo rubato una vittoria contro di lui. Abbiamo fatto patta in una partita completamente andata. Dai cerchiamo di farne un'altra. Se vinco questa. Questa è l'ultima. Risupero il 2350 e mi fermo. Quindi difesa siciliana. Lui ha giocato cavallo c6. Quindi alfere d5. Su cavallo d4 alfere c4. Vediamo qui cosa gioca. Ha giocato a6. Quindi a4. Ok d6. Sistema piuttosto strano questo con d6. Proviamo ad arroccare. Qui catturo. Cavallo e2. Ah ho giocato d5. Vabbè mi sa che devo prendere in d5 per forza. E qui quasi quasi gioco cavallo per d4. Qui guadagno un pedone mi sembra no? Sì. Dovrei riuscire a guadagnare un pedone qui. Forse c'è alfere per g2 forse. Sì. L'ha fatta. Ha fatto alfere per g2. Però comunque mi dà la coppia degli alfieri. Lui ha sviluppato 0 pezzi sul lato di lì. Qui attacco la torre in a8. Coppia degli alfieri. Lui ha il re al centro. Penso di stare benissimo qua. Dove la mette la torre perché c'è a6 impresa? Eh dopo 14 mosse vedete? L'avversario ha pensato di fare una bella cosa. Giocando d5 invece mi ritrovo che sto posizionalmente meglio. Lui ha giocato torre a7. Ok giochiamo alfere a3. Guadagniamo un tempo sulla donna. Do molto volentieri il pedone in b2 perché poi segue torre b1. Quindi lui ha giocato donna d6. Qui quasi quasi gioco a5. Attacco la torre in a7. Come fa lui a difendere il pedone b6? Penso che sia andato questo pedone. Non lo può salvare in nessun modo. Ci sta pensando. Forse si è reso conto solo ora che la sua posizione è disperata. Pezzi pari ma lui posizione completamente andata. Anche donna d6 è brutta perché comunque l'alfiere camposcuro come fa a svilupparsi ora? Troppo indietro lui con lo sviluppo. Sta giocando con tre pezzi in meno. Ha abbandonato. Effettivamente io penso che questa fosse da abbandono. Vediamo quanto vantaggio mi dava qui. Addirittura più 7.7. È incredibile. Invece la partita che prima stavo perdendo e poi ho fatto patta. Vediamo un attimo. Contro Batman che è l'unica patta che ho fatto. Se non mi sbaglio in questa puntata. Vediamo un po' perché lui aveva giocato un sistema abbastanza interessante. Qui ho arroccato lungo. Ok. No! C'era torre per alfiere. Questa me la so persa. Perché c'era alfiere in f4. Quindi posso fare torre per alfiere. Poi catturo in f4. Quindi mi ha dato ben due pezzi. Ai 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 ai. Questa me la sono persa. Vedete? Avevo la possibilità di chiudere la partita velocemente. E non mi è venuta in mente torre per alfiere. Va bene. Per oggi è tutto. Grazie a tutti per la visione di questo video. Ciao. E alla prossima. Grazie a tutti.